Si svolgerà il 7 luglio l'udienza preliminare per la richiesta di rivia a giudizio dell'ex sindaco di Foggia, Franco Landella, dell'ex presidente del Consiglio Comunale, Leonardo Iaccarino, e di altre 15 persone tra ex amministratori pubblici, dipendenti comunali, imprenditori coinvolti nell'inchiesta sul presunto giro di tangenti alla Comune di Foggia. Le accuse a vario titolo sono di tentata concussione, corruzione, peculato e tentata induzione in debita, e stigazione alla corruzione. L'inchiesta, che si basa su intercettazioni e parziali ammissioni di alcuni indagati, ha portato tra il 30 aprile e il 22 maggio 2021 all'arresto di una mezza dozzina di persone tra carcere e domiciliari, compresi l'ex sindaco e l'ex presidente del Consiglio Comunale, alcuni consiglieri comunali e imprenditori. Gli indagati da tempo sono tornati in libertà. Al centro delle indagini ci sono una serie di appalti per la pubblica illuminazione, progetti urbanistici, forniture e acquisti per regali a scopo privato di materiale vario pagato con fondi in dotazione all'ex presidente del Consiglio Comunale.